ciao e benvenuto come sempre al mio canale oggi un nuovo video spray paint art vediamo cosa succede prima di cominciare ti invito ad iscriverti se è la prima volta che sei qui lasciami un like se il video ti è piaciuto e scrivimi nei commenti cosa ne pensi allora adesso cominciamo e buona visione ciao 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 ciao